Quello lì, io ho sempre una fifa che mi fa un perry Torno subito verso di te Se pensi trigger la boss fight vengo verso di te Sei alzato L'attacca Non ha Oh, non capì Salve sì Penso di sì Ma tu l'hai salvato la vita da un reposte Gli entrava, gli entrava L'ho sbilanciato Oh, reposte Eh, non avevo stamina Ok, però stare all'angolo che se muo' arriva a sif so cazzi, eh Uccidilo, uccidilo Ok, sif Ecco, chi come se la prende secondo te è un cane? Mi sono curato in tempo Mamma mia 9.72 io l'ho fatto io? Ah no Mo, mo, no, no, mo vai in seconda fase? Non è vero? Mo dovrebbe andarci Eh, vai a fare in culo Vai in seconda fase Non rompere il ca Buono, è morto Grazie Ossa del campio Ossa La madonna 90.000 anime Buona pippa E mo non sta Bene Grazie a tutti Grazie a tutti